malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene oggi vorrei trattare del tema della difesa dei sindacati delle classi dei lavoratori prendendo ad esempio la cgl e facendo diciamo un breve molto sintetico riassunto dei risultati raggiunti nell'arco degli ultimi quattro anni dal 2019 quando maurizio landini fu diciamo apprezzato da quasi il 93 per cento degli elettori sindacali per il suo eccezionale contributo alla causa ebbene nonostante le migliori intenzioni quello che risulta poi nei dati effettivi è che i salari reali in italia cioè quelli diciamo depurati insomma considerando l'effetto inflattivo sono scesi del 2,3 per cento dimostrando insomma con questo il fatto che la difesa è stata una difesa teorica e non concreta con oltre al 50 per cento di contratti collettivi scaduti è evidente che anche sotto questo profilo le intenzioni non corrispondono effettivamente alle aspettative e quindi il sindacato noto per la sua rappresentanza che soprattutto negli ultimi tempi ha riguardato prevalentemente il mondo dei pensionati ha dovuto poi aspettare un governo di centrodestra per un piccolo e del tutto assolutamente insufficiente bonus pensionistico quindi il sindacato nel momento in cui semina scioperi e raccoglie pensionati poi alla fine si trova di fronte a dei bilanci che non sono esaltanti perché diciamo che il vertice della cgl diciamo che transitando in parlamento in area pd ha votato a favore del job set noto per lo smantellamento dello statuto dei lavoratori quindi le aspettative di un sindacato allineato politicamente forse non collimano sempre con quelle dei lavoratori ma il punto mio è il fatto che in italia si è creata una contrapposizione che ormai non ha più molto senso storico anche chi come me ha letto marx sa bene che per esempio marx ce l'aveva con i capitalisti non con gli imprenditori e le due figure se andiamo a vedere i grandi testi anche dell'economia aziendale non coincidono più in italia ma ormai da molti decenni in italia la gran parte dei piccoli e medi imprenditori non sono affatto capitalisti sono persone che si indebitano in banca mettendo la propria fidigliuzione la propria casa i propri risparmi a garanzia e poi dopo io non ho visto nella mia attività di consulenza persone che si divertono a licenziare o a perdere dei lavoratori naturalmente parlo di statistiche e non parlo della totalità ci saranno dei casi chiaramente diversi ma nella stragrande maggioranza dei casi quello che serve in italia invece è ritrovare una collaborazione una politica di collaborazione tra i lavoratori e i piccoli e medi imprenditori perché sono i piccoli e medi imprenditori piaccia non piaccia che creano e mantengono i posti di lavoro non lo stato malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene